Il maratoneta è già un atleta con una grande forza mentale, noi dobbiamo solo raffinarla. Il primo consiglio che mi sentirei di dare a chi vuole fare una maratona è quello di dedicare gli ultimi 20 giorni quasi esclusivamente all'obiettivo, isolando qualsiasi tipo di elemento potenzialmente negativo in termini di concentrazione, ma anche di performance, quindi anche a livello per esempio alimentare. Il secondo suggerimento che vorrei dare è quello di capire che durante la gara c'è sempre uno spazio in più di possibilità di resistenza alla fatica, quando noi percepiamo a livello interiore il livello della fatica siamo non al limite ma quasi. Il terzo è quello di definire bene l'obiettivo, cioè io devo capire qual è il tempo sotto cui voglio arrivare e capire come visualizzandolo, allenandosi mentalmente poterlo rendere appunto realtà. Tanto più l'obiettivo è chiaro, tanto più il risultato sarà evidentemente chiaro.